La preghiera di Giovanni Paolo II che ha composto per Maria Goretti dice così Bambina di Dio, tu che hai conosciuto presto la durezza e la fatica, il dolore e le brevi gioie della vita tu che sei stata povera e orfana, tu che hai amato il prossimo instancabilmente facendo di serva umile e premurosa, tu che sei stata buona senza inorgoglierti ed hai amato l'amore sopra ogni altra cosa, tu che hai versato il tuo sangue per non tradire il Signore tu che hai perdonato il tuo assassino desiderando per lui il paradiso intercedi e prega per noi presso il Padre affinché diciamo sì al disegno di Dio su di noi tu che sei amica di Dio e lo vedi faccia a faccia ottienici da lui le grazie che ti domandiamo grazie a tutti